Il costume di scea di solito me li compro, me li faccio e poi me li conservo. Quindi sei anche un bravo sarto allora. No, 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 che cazzo. Ah tu li compri e basta. Ma sei tu che li fai Cristian? No, no, lui si fa i suoi. I miei li faccio io. Ah, bravo, quindi hai anche una macchina da cucire allora a casa. Ma che è tutta a mano Nina. Tutta a mano. L'esageriamo. Lui fa spettacoli di animazione negli eventi, eventi pubblici e anche privati. E di solito con la sua partner, che approfittiamo, salutiamo, si chiama Tonia, Tonia Facelli. Tonia? Sì, fanno questi eventi. Vuoi raccontare un poco tu? Eventi a tema. Abbiamo fatto per esempio per la proprietaria del castello di Nimmatola. Lei fa ogni anno il compleanno sopra il castello, sopra il terrazzo, il terrazzo grande del castello. e l'anno scorso fece il tema Olimpo. Quindi facciamo tutto il spettacolo tema Olimpo. Bello! E io mi sono fatto il vestito da Olimpo da Zeus. Da solo? Da solo? Vedi che bravo. Sì, sì. Poi loro fanno queste belle performance con Tonia. Fanno molti passaggi di danza, tanta classica, moderna, contemporanea. Lui di solito fa anche le coreografie. Sì! No io approfitto aggiunto a saluto. Ciao Ilaria!